Vlada e Siki! Siki, guarda! È un bottone! Schiaccialo! Uno, due, tre! Come usciamo da qui? Siki, sei lì? Sì! Schiacciamo i bottoni! Grazie! Sono ricco! Aro! Sono il prossimo! Fantastico! Mi piacciono le case morbide! Che colore dovrei scegliere? Oh, verde! Quindi? Quindi? Wow! Tupi-bop! Belli! Ciao! Oh! Oh! Tiralo! Devo trovare il bottone per uscire! Oh! Sono ricco! Ehi, Nicky! Questi sono soldi finti! Oh! Cosa è successo? Cosa è successo? Ho perso i miei soldi! Dov'è il bottone per uscire? Cosa è successo? Puppet! Sì! Andiamo! Oh! No! Fani! Ora di rilassarsi! Quale dovrei scegliere? Sì, evvive! Quello non è il bottone per uscire! Fantastico! Vuoto! Oh oh! Sono macchina e giocattolo! Vroom vroom vroom! Andiamo! Sono patatine fritte! Deliziose! Grazie! Vuoi bere le patatine fritte? No, grazie! Andiamo! Cosa? Dove sono tutte le cose? Di nuovo! Oh! Popcorn! Popcorn! Yeah! Evviva! Marshmallow! Voglio stare qui per sempre! Anch'io! Pronto! Pronto? Sì! Ah! Ah! Cos'è? Ah! Ah! Non è niente! E' fantastico! Wow! 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 Aspetta! Come usciamo da qui? Non ne ho idea! Ci sono così tante parte! Cosa è successo? Non lo so! Ciao, Chris! Ciao! Christian! Nicky! Qual è la porta per uscire da qui? Forse quella è blu! Proviamo! Evviva! Palline! Forte! Dobbiamo mettere le palline nel secchio del loro colore! Così! A media c'è il blu! Mel verde! L'arancione è il mio colore preferito! Abbiamo finito! Come usciamo da qui? Niente panico! Credo sia quella gialla! Sabbia! Bello! Wow! Sappio! Wow! Bello! Wow! Cos'è? Wow! È dello slime! Wow! Ha un cervello enorme! polpo! 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 Ma che colore? Forse... il verde? Sì! Chris, passami il cerchio! Chris, abbiamo bisogno del quadrato! Dammi il triangolo! Ovali! L'ultimo! Sì, ce l'abbiamo fatta! Dov'è l'uscita? Oh, forse l'arancione! Wow! Dobbiamo ballare! Evviva! Ballare è stato divertente! Ma dov'è l'uscita? Forse quella rosa? Il gioco delle scatole! Bello! Vado io per primo! Cos'è questo? Sono i broccoli! Li ho assaggiati! E vai! Vado io! Ho paura! Non avere paura, Nicky! Prova! È una piera? Sì! Tocca a me! È un cerchio! È un cerchio! È un cerchio! È un cerchio! Cos'è questo? Oh, pomodori! Pomodori! Buoni! È un serpente! No! È un drago! Run! No! È il mio drago barbuto! Larry! Larry! Saluta! Ehi! Iscrivetevi al canale! Ma dov'è l'uscita? Non ne ho idea! Ma dov'è l'uscita? Forse è la gialla? Wow! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Wow! Lo so! Contiamo! Uno, due, tre, quattro e cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Evviva! Falloncini! E vai! Ah-ha! Ah-ha! E vai! Questo! Tre, due, uno... Scappa! Ah! Scappa! 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 Abbiamo trovato la chiave! Evviva! 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 E vai! Evviva! Anche io! Evviva! Evviva! Si! 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 Añor束! Grazie a tutti.